Insomma, dare una testata sul naso a un giornalista e spaccargli il naso è una cosa orrenda, che non va fatta, che deve essere sanzionata, però non è che automaticamente vuol dire che se lo fai sei mafioso, è invece il caso di questo Roberto Spada, la sapete tutti, la vicenda di questo signore di Ostia che ha spaccato il naso a un giornalista della Rai, che è finito in prigione anche se la legge non lo consentiva, perché il reato era un reato che prevede una pena inferiore ai 5 anni e quindi non prevede la carcerazione preventiva, lo hanno arrestato lo stesso sostenendo che la testata fosse mafiosa. Adesso per dar forza a questa tesi, evidentemente peregrina che non sta in piedi, lo hanno addirittura allevato delle ginocieli e mandato a un carcere speciale al 41 bis, Spada sta al 41 bis per un reato che prevede invece un massimo di un anno e mezzo di reclusione. Poi ci torniamo fra un minuto, è morto Totorina che stava al 41 bis, Totorina stava amarissimo, era moribondo da molto tempo, era stata chiesta la sospensione del 41 bis per permettere anche familiare di vederlo, ma è stata negata e quindi all'ultimo minuto poi Orlando, il ministro anche con una forzatura ha imposto la sospensione del 41 bis, anche se tecnicamente non questo, però ha permesso ai parenti di andarlo a trovare, Rina come sapete poi è morto nel corso della nottata. Terza scena, poi le rimettiamo tutte insieme, l'ONU ha detto che il 41 bis non va bene perché il carcere duro non è previsto nelle democrazie, esiste il carcere, non il carcere duro, il carcere duro è previsto nelle dittature, nei paesi dove si governa con la ferocia. Mettiamo insieme queste tre cose, generalmente si dice che il 41 bis serve per impedire la comunicazione fra i capi della mafia e i picciotti e che questo è il motivo per cui non è che è carcere duro perché vogliamo essere cattivi, ma per impedire le comunicazioni e è evidente che nel caso di Spada questo non esiste perché nessuno pensa che Spada debba dare ordini alla mafia siciliana, quindi non è vero, il 41 bis è uno strumento di punizione, non è uno strumento di prevenzione. Comunque Totorino è morto, comunque Provenzano è morto, i capi della mafia non ci sono più, l'ONU ci dice non fate i cretini con questo 41 bis, sarà il caso almeno adesso di abolire questa idiozia del 41 bis che ci rende un paese incivile?